Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Che giocatore. Il re. Ma ho guardato in arto a destra, eravamo tipo 5 su 16. Sono crepati tutti. Era tutto bucato. Da subito 1.000 euro di sub. Vabbè sì, questi 1.000 euro. Ma Zo Zo, una 0 è brutta. Per fare questi, per fare questi, per fare questi, yeah. Qua sono i catturati, ragazzi. Oggi entrare per prendere la bro, guardate gli altri però. Io ci credo ancora. Non facciamo la stessa cosa di prima. Bro, ci dico cosa fare, se le due va là. Sì sì sì. Vabbio, grazie per il Prime, ammo, benvenuto. Ma hai fatto l'ass... Bro, guarda, che buco dico. Sono host, come fa a sparare prima di me? Cioè, dimmelo. Spiegami... Ma basta! No, ragazzi! Ma come... Ma vi posso chiedere un favore? Ma fate faccia a faccia o... Ma davvero che ve nascondete dietro ai muri? Ma che stiamo a fa? Ma che stiamo a giocare? Stiamo a giocare... A rincorri il pony. Forza biscotto, grazie per il Prime, benvenuto in stalla. Biscotto meraviglioso. Dopo, è questo lo sport che ci piace, il calcio che ci piace, i torneini che... Mo' tocca a sperare. Porco Dio, due volte che perdo la Supercoppa, 2-0. S'ho triggerato. Leo Cotto, bentornato. Gabbo, grazie per i 6 mesetti. Ah, questo pure da 5 piotte? Sì sì, ebbè. Va bene. È per giustizia la tua. Yes. C'è sto, Marzo. Quando vuoi. Fammi il conto. 3... 2... 1... Via. Porco Dio, veramente, Lucy? Sono d'accordo. Sono venuto a portarti un po' di zella. Eh, si vede, Maranzò, mortacci tua, svegliate perpendicolari, svegliate. Wild James. Ok, veramente la merda, voglio morire. Eh... Manuxo. Manuxo... Manuxo... Manuxo è un mio pupillo. Cioè, non lo voglio, non lo voglio più, non lo posso, non lo posso nascondere. I Manuxo ho visto me. Ho completamente visto me. Vedo, non tanto nel modo di streamare, ma quanto nel modo di ragionare e da... Quanto... E in un certo senso si... Si impegna a portare dei contenuti alle persone. Nel senso che... Mh... Solo che... A parole mie. Porco Dio, parlate tre ore ininterrottamente, figli di puttana. C'avete la mamma che è una troia, una turbo troia. No... 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 Oh... No... 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 Alexander Creed, grazie per il livello uneperi sei mesi. Sono bello, grazie per il prime. e ci devo fare sta roba va bene va bene da poi sto manda il codice da cestà voce stavo dentro tutti guanciate fai la prossima attaccata artes ma che che è mandato mandato grande codice roia maledetta come se fa no 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 aspetta no aspetta davro sino no io la apro me nevo le cuffie la apro no vabbè è quello che vuole tieni così no tieni così cilla 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 ho capito tieni così mortacci tua se sveglia frate frate c'è stava la volpe che stava a tira drittissima l'hai vista c'è il uomo c'è l'uomo no già ma aspetta cilla guarda esatto guarda le gambe vicino chiudi chiudi o è c'è la camerotta chiudi a destra sai cosi che che swingano a destra e sinistra ma non lo fa perché se non lo sai fare non non lo fai il percorso e te secondo me manuccio uno buono è sempre il cerchio solito il cerchio solito al centro è sempre buono ok io sto un po qui allora ok è un po di vento qui a dio e loro sta sbagliando è che mi piace questa situazione sono messo male vero marzo io mentre mi sono già scritto in spagnolo che cosa gli devo dire vado vado al volo risolvete questa direzione ma perché dovresti essere banale ma infatti ma infatti è tutto buono hola 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 carbonara carbonara a mezzo da merda jambe piano per culo zi ho entrato fanno carbonara piano com'è che si chiama manu x8 ci ho trovato ci ho trovato ok e invece il marzone come si chiama vabbè ovvio nel senso il ninja è come vuoi che si chiami vabbè è il ninja di toglia oh no lasciami stare no ragazzi no è una cosa è la fine me l'hanno scavallato dalla tablur era lontore il capito che poco erro il mondo l'illogico fazone l'illogico fazone Nemico Cristiano Ronaldo risponde con 807 gol La partita è tesa fino al novantesimo dove De Rossi drip da Jack Sparrow sfida a braccio di ferro Bobo Vieri drip da Napoleone ma il Camel vince e conquista 806 punti All'ultimo secondo l'Italia sta per festeggiare ma si accorgono di Ventola che ha dormito tutto il tempo ha fatto una russata da un punto e la partita finisce in parità De Rossi drip da Jack Sparrow è la cosa più bella che vedrò oggi e sentirò oggi perché oddio che puttanata Marza romanista non esiste non può farti del male basta 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 il maestro Stanno entrare qualcuno ha indovinato senza che ho detto niente Stanno provando tutte le lettere ma nel fatto così puoi provare tutte le lettere Lui no? Il fazzone clown fuori Niente si fazzone clown fuori mi chiude la lobby Voi siete ancora in lobby vi fa vedere Prova a rimetterla al volo No 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 eh Eh no perché non credo È l'ultimo però non può Vedi che alla saliera era ovviamente Cioè te giuro che so un fenomeno Te giuro frate so un fenomeno Bentornati Marbocchi Cristo Redentore Ma è inquietante Non pensavo di rivedervi così presto Ma ormai è tardi per fermarmi il fantastruffolo sarà il mio capolavoro Bruma questo Peccato che non vi abbia mai parlato dell'ingrediente segreto più importante Bambine Belli Oh ieri devo tirare fuori le minne Aspetta no non lo faccio Se si belli io tiro fuori tutto eh Chiuderò ma io un'altra invece questa è una cosa mia che te devo dire Me la chieda me la chieda Perché io deve sapere che io apprezzo qualsiasi tipo di genere Cioè il prezzo del genere maschile e femminile nella loro bellezza e qualità Va bene è una buona è una bella cosa Cioè se io vedo c'è capito se a me si presenta un bel maschio Le dice mi piace perché è un bell'uomo Esatto esatto E io ti dico ma perché Ti sei levato la barba Porca puttana Facevi un sesso che era clamoroso E ma si la irritavo La irritavo in che senso? No la mia barba mia moglie Non gli piaceva la barba Eh ragazzi Non Cioè quando A me mi chiamano l'Indiana Jones della Brianza Come si dice Te la sto per dizzi Mi ha fatto volare il bigliardino Sono uovo Le stelle sono uovo Sono uovo Sono uovo Sono uovo Sono uovo Sono uovo Ne 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 Vuol dire qualità Vuol dire qualità Ne 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 Si sente Oh ecco ti Tu so che ne avevi parlato Padatino Ma io non lo trovo Oh a pezzo de merda Te trovo in chat E te massacro Guarda c'è Il palazzano bravissimo Bravo Il linguino ce ne va A ritmo della notte Via 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 Ma guarda questo Che mi è dovuto avvenire A rompe i coglioni a me Nice Ma regano Mo' via Porchi Dio Ricordiamo Un linguaggio Apolico Eh guarda è dal cuore Potente Come va Mettimene uno in faccia Lascialo Halo Si Se sto in finale con un ragazzo Però gliela lascio Lascialo Halo Gado 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 Niente frate Questo lo devi solo evitare E poi devi pregare Gesù Cristo Ok ma in realtà Se può fare Molto più facile Saranno dei fenomeni Che fa lunga Eh lunga è il fenomeno Bravo Bravo Sbalito Olè Quanti punti sono Ficca quando finisce il tempo Yes Yes Sbalito su da zero Vabbè stiamo a giocarsi tutto All'ultimo E' tutto per tu Il maestro No Vabbè ragazzi Ma è una cazzata Che se non salti Non rimbalza giusto Niente ragazzi Ti provo a Zainz Sbalito su 2 a 0 Vabbè ma l'altro ho leso Mamma mia Che puntino Che gli ho andato a fa Il maestro Pensa che Quello contro Sbalito Si è mettato la Windy su Sbalito